Per leggere un territorio e tanto più per scriverne, si sa, bisogna viverlo. E' per questo che l'iniziativa scrittore residente è particolarmente preziosa per chi come me ha l'abitudine di raccontare cose e soprattutto persone. Qui ci troviamo alle pendici del Monte Cucco in una splendida faggeta. Ho appena fatto un'escursione, ho conosciuto così tante particolarità naturalistiche, alcune leggende che riguardano questi luoghi, storie culturali e popolari. E' un vero e proprio viaggio, non solo all'interno di luoghi magari poco conosciuti, ma nella vita vera della gente che abita questi territori. Grazie.